Dal piano regolatore generale alla realizzazione del nuovo plesso scolastico, dal servizio idrico integrato al processo di digitalizzazione. Sono questi solo alcuni dei risultati conseguiti dal sindaco Guido Angelilli che insieme al vice sindaco Franco Pennelli, all'assessore Sara Santini e ai consiglieri Claudio Bosio, Giuseppina Bosio, Silvio Cappelli, Emilio Faccia, Antonino Napoli e Francesco Terracciano ha illustrato i successi del suo mandato in piazza di fronte a tante pacentrane e pacentrani che hanno applaudito, riconoscendo al sindaco e ai consiglieri, il merito di aver contribuito in maniera effettiva ed efficace allo sviluppo di Pacentro che in questi anni, per esempio, è diventato protagonista e indiscusso nel panorama turistico nazionale. Il sindaco Angelilli e i suoi consiglieri hanno consegnato ai presenti una copia di Il Punto, uno stampato di 46 pagine che racchiude con foto e didascalie il lavoro svolto in questi anni. Il Punto vuole essere uno strumento per consentire a noi amministratori e ai cittadini quanto di buono realizzato. Come amministrazione comunale abbiamo sempre riflettuto sul futuro del nostro paese e sulla necessità di fare rete con altri enti locali così da affrontare e vincere le sfide che ci attendono. Secondo la nostra visione, per esempio, come comunità, il nostro futuro dipende da quanto saremo in grado di interpretare e muovere a nostro vantaggio la transizione ecologica digitale. Un processo questo che è stato già avviato con l'adesione a Di Pacentro alla Green Community di Maiella Madre. Queste le parole del sindaco Guido Angelilli che ha dato l'appuntamento alla cittadinanza per il prossimo 31 maggio alle 16 quando sarà inaugurata la Scuola dei Desideri Mario Silvestri, un polo scolastico all'avanguardia nel mondo.